Ma la virtù pone un'arma nelle mani del virtuoso, e sebbene la tentazione sia un attacco, non bisogna arrendersi. Su questo argomento il filosofo dice, non potete impedire agli uccelli di volarvi sopra il capo, ma potete impedire che vi facciano il nido. Buongiorno ragazzi, com'è andato l'esame figliolo? Bene? Ma tu sei il solito secchione, ma sempre bene. Scommetto che sei anche uno di quelli che non vuole suggerire. Il professore lo ha elogiato, ha detto che è il suo primo studente che capisca quello che dice. Eh sì, tuo padre dovrà essere veramente un uomo orgoglioso per avere un figlio da non portare dal logopedista. Non essere acido. Oh ma, ma che gioia, andiamo a teatro questa sera. Che abito mi metto? Andiamo insieme, vero? Bene, dovrò farmi molto bella, è un'occasione rara. Sì ma non ti casare troppo. Vedi Henry, si va a teatro stasera. Se vuoi andare con questa sottospecie di cervellone nemico delle tartarughe ninja, fai pure. Quando posso uscire con te? Sei sciocco e non devi dirle queste cose. Sì, 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 sì. Ma quale abito mi metto? Quello azzurro con le piume? O è meglio quello giallo? Quello con le piume sui capezzoli. Cos'è? Una commedia o un dramma? Una tragedia. Ho trovato. Questo bianco, questo bianco va bene per piangere e per ridere. Ehi. Sì? Senti, ti va? Se prima di andare a teatro ci sdraiamo un attimo e ascoltiamo Radio Blue Note, quello che sono per fare adesso. Sicuro. Vabbè, veramente stavo dicendo lei. Scusami. 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 Grazie a tutti